Murano, la lavorazione del vetro. Fanno lampadari, bicchieri, di tutto. Alcanzia. Alcanzia. I like that it's less crowded than Venice. The glass museum's really cool but yeah it's less crowded than Venice, which is really nice but it's still really beautiful. American or Italian pizza? Italian pizza, obviously. E dove è il miglior gelato? Due o trecento metri nell'altra parte del canale c'è una gelateria dove si vanno, dicono, un buon gelato. Ok, grazie mille. What makes your gelato stand out? The love, love, passion, and the hard work. Oh my god. Wow. Wow. Oh my god. So good. Siamo qua dei Bisatei, i migliori ristoranti di Murano. Evviva la Santé. Evviva la Santé. La Santé. Ciò che si metà una fine di carne, la città che si mette. Allora so nel cuore. Il amore. Così. Il amore. Chiago. E ansi. È una vita di moda. Per il amore. Ciò che si mette. È un po' più conocido. Il amore. Si mette. Il amore. Il amore. Questo è un altro napadario, sempre fatto da mio marito, mio marito maestro vetraio. Che bello, vero? Tanto vero, era molto bravo mio marito, era un grande maestro vetraio. Guarda, vedi che ci sono anche i fiori finti, due fiorellini in vetro, fatti questo.